Musica Cari telespettatori ben ritornati con noi un altro capitolo che apriamo insieme con Confcommercio del Veneto dedicato a parlare dei distretti del commercio più volte ne abbiamo raccontato le peculiarità ma andiamo sempre più nello specifico anche in occasione di un importante evento che si è svolto a Padova di incontro tra la dirigenza di Confcommercio, dei ricercatori, anche delle università degli studiosi, dei docenti universitari e ANCI del Veneto quindi gli amministratori dei comuni per adottare e studiare delle strategie che trovino in abbinamento la valorizzazione anche dei centri storici che sono fondamentali con il commercio quindi possa sempre più essere elemento vitale e di crescita di una città in un momento che come sempre continua di grande difficoltà così almeno lamentato degli operatori del settore e sappiamo tutti cosa vuol dire quando si chiudono i negozi nei centri storici e tutto converge in centri artificiali che non sempre sono la soluzione è una panacea dei tutti i mali purtroppo per noi detto questo abbiamo l'opportunità di avere i nostri interlocutori che sono stati anche a questo convegno per cui ci apporteranno le novità importanti allora l'architetto Roberta Capuis responsabile del settore urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio e Imprese per l'Italia grazie di essere qui con noi grazie a voi poi abbiamo il professor Luca Zanderighi professore di marketing all'università di Milano grazie anche a lei grazie grazie di invito e il dottor Tiziano Minuzzo di Confcommercio Venezia manager del distretto del commercio di Milano e parliamo già concretamente di un distretto grazie anche a lei grazie a voi allora a questo incontro era presente naturalmente l'assessore Roberto Marcato assessore che si occupa proprio dei distretti ne ha presi veramente a cuore della regione del Veneto e quindi sentiamo l'intervista parlo in termini di commercio abbiamo due nemici mortali le grandi strutture di vendita e l'e-commerce allora dobbiamo chiederci come possiamo o subiamo queste due situazioni oppure le affrontiamo allora io credo che l'iniziativa dei distretti del commercio risponda esattamente a questa esigenza cioè mettere in rete non solo i commercianti ma anche gli enti locali, i comuni, le associazioni in categoria sia la massa critica sufficiente per rispondere ai colpi anche del progresso che inevitabilmente ci sono e quindi tutte le risorse che abbiamo messo a disposizione ricordo che nel collegato alla finanziaria ho messo altri 9 milioni proprio per dare risposte a tutti i progetti dei distretti del commercio le amministrazioni devono lavorare a fianco delle sanzioni di categoria e dei commercianti per dare loro la possibilità di continuare ad esistere nei nostri centri storici perché al di là dell'aspetto meramente commerciale voglio ricordare che la presenza dei commercianti nei centri cittadini sono sinonimo di sicurezza sono presidi di sicurezza e sono anche sinonimo di qualità della vita perché andare in un centro cittadino dove c'è il negozio e questo è comunque qualità della vita quindi su questo dobbiamo fare una battaglia molto forte Quali sono le nuove politiche regionali previste per i distretti del commercio? Allora noi abbiamo messo a disposizione noi abbiamo inventato tra virgolette questa struttura del distretto abbiamo messo risorse davvero importantissime però abbiamo lasciato ai comuni e alle sanzioni di categoria ai commercianti di declinare questa nostra visione in ambito locale quindi ogni progetto ha una sua peculiarità e non può essere diversamente perché ogni zona del Veneto e questa è anche la forza della nostra economia ha delle specificità che non sono replicabili quindi la declinazione viene fatta assolutamente in loco viene fatta dai comuni e dalle sanzioni di categoria Allora detto questo io comincerai con lei professore perché l'assessore allo sviluppo economico ed energia della regione del Veneto Roberto Marcato ha detto dare risposte a tutti i progetti quindi risorse che sono state messe però poi i comuni, sta ai comuni declinare perché il nostro territorio ha questa peculiarità un po' fatto di piccolissime aziende e di comuni tanto piccolini che però hanno ognuno la propria caratteristica quindi questi distretti cosa sono? I distretti del commercio sono uno strumento di sviluppo che mette insieme la dimensione della pubblica amministrazione con gli operatori e le associazioni c'è uno strumento di partenariato per la valorizzazione del commercio urbano il problema del commercio urbano rispetto a altre polarità come quelle artificiali rappresentate dai centri commerciali o rispetto al polo digitale quindi il commercio online ha una criticità di fondo che è quella di mancanza di una rete di una regia e quindi i processi di valorizzazione del commercio urbano passano attraverso strumenti che supportano questo tipo di regia questo tipo di coordinamento e diciamo rappresentano i distretti del commercio un qualcosa che si è sviluppato nel nostro paese in diverse regioni e che trovano riscontri in altre iniziative di gestione coordinata del commercio urbano che si sono sviluppati in Europa nei decenni precedenti ecco però viene da pensare che se città o metropoli appunto lei c'è una valla Europa di un certo tipo Barcellona per esempio che ha fatto un restyling completo una valorizzazione di un certo tipo con delle politiche può aver bisogno dei distretti perché anche le nostre piccole città i nostri piccoli comuni hanno bisogno di questo non possono in qualche modo organizzarsi al proprio interno quindi farlo direttamente delle amministrazioni locali visto che c'è anche l'assessorato relativo al commercio beh spesso non hanno la scala economica per poter fare interventi di questa natura dobbiamo per esempio pensare a i casi di tanti comuni per la volta di piccole dimensioni che hanno vissuto e stanno vivendo una crisi commerciale numerosi sfitti sono proprio all'interno di questi comuni ora qual è il problema? è il problema che la dimensione dei consumi la dimensione della residenza il venir meno di alcune funzioni che strutturano la vita di questi centri urbani si sono impoverite ora attraverso lo strumento del distretti del commercio che più in generale possiamo dire uno vero e proprio strumento di innovazione e di sviluppo si cerca di fare una serie di interventi che riguardano il contesto anche in cui operano le imprese commerciali perché se le imprese commerciali non hanno un bacino di consumo o perché un'area, un territorio offre delle opportunità di lavoro ci sono un centro di scambi non c'è della residenza o non ha capacità di attrarre ad esempio flussi turistici è evidente che qualsiasi iniziativa si voglia fare anche rispetto al singolo commerciante finirebbe per non avere il risultato sperato perché ci vogliono delle condizioni di contesto che consentono all'imprenditore commerciale poi di svolgere la propria attività e di sviluppare il servizio commerciale aggiungerei anche in funzione dei cambiamenti del comportamento della domanda che alla luce dei processi anche di digitalizzazione e dei cambiamenti tecnologici c'è bisogno ecco lei ha parlato dell'attrattività che è un po' anche quello l'oggetto del marketing che tante volte però langue nei nostri territori quanto dovrebbero diventare attrattivi questi vecchi nuovi poli di aggregazione e come possono farlo visto che comunque sono fatti da una pluralità di operatori beh certo l'attrattività non è un concetto astratto deve essere un concetto poi implementato sul territorio che può essere declinato in funzione anche delle vocazioni diverse che hanno i territori ci sono dei territori sul quale si può sviluppare una capacità turistica che c'è o si può potenziare in altri probabilmente occorre valorizzare una capacità territoriale espressa in termini di artigianato piuttosto che di politiche chilometro punto zero e così via cioè andando a lavorare su delle filiere delle micro filiere del territorio ecco il distretto aiuta a coordinare a individuarle a dare delle prospettive di crescita per le imprese per le imprese commerciali ecco una dei case history su cui avete lavorato beh noi come diciamo in questo caso io oltre che professore universitario sono anche parte di una società che si chiama Trade Lab abbiamo seguito alcuni dei progetti presentati di distrito del commercio presentati adesso in Veneto e quindi abbiamo fatto la nostra parte nell'aiutare diciamo dei territori a sviluppare una progettualità al netto di questo esperienze che si sono sviluppate anche altrove possono riguardare tante anche piccole azioni ad esempio il fatto di poter aiutare le imprese commerciali anche nei processi di digitalizzazione ad esempio nell'essere più in sintonia con le nuove modalità di pagamento moderne dei consumatori piuttosto che analizzare i comportamenti di acquisto dei consumatori i consumatori non sono più quelli di una volta anche alla luce dei processi dei cambiamenti che ci sono e ci sono segmenti di consumo diversi ecco talvolta le imprese commerciali soprattutto il commercio di prossimità anche le più piccole fanno fatica a entrare diciamo in sintonia con questo tipo di cambiamento ecco progettualità all'interno dei distretti possono aiutare i singoli commercianti in questo percorso strategico diventa quindi il ruolo del manager di distretto che dovrebbe avere una governance non so se che si coniuga con la politica del territorio oppure super partes in questo versante quindi a politico dopo ce lo dirà concretamente anche il nostro ospite però in teoria assolutamente il ruolo il ruolo di sede di commercio è di dare una visione a un territorio direi questo forse dare una visione e dare degli obiettivi obiettivi che poi possono essere misurabili e quindi possono portare a delle politiche di monitoraggio dei risultati raggiunti in questo ambito il ruolo del manager e qui non soltanto per le esperienze dei distretti del commercio in Italia ma anche altre appunto esperienze simili di gestione coordinata del commercio urbano che vengono all'estero puntano molto sulla figura del manager una figura che deve essere una figura professionale deve essere una figura che abbia una capacità di leadership sul territorio e che possibilmente sia una figura terza rispetto agli attori del partenariato le esperienze internazionali sottolineano anche un aspetto e qui forse vale la pena sottolinearlo che quelle più positive vedono nel manager dei giovani e delle donne nei casi di successo in molti casi giovane e donna è vincente ah addirittura si quindi bisogna essere poi sinceri quindi non è non è evidentemente generalizzabile evidentemente però diciamo esperienze di successo vedono in questa nuova figura giovani una figura professionale anche giovane che è più capace di includere di condividere le politiche mettendo insieme pubblico e privato ecco allora voglio andare sul caso concreto anche se non è giovane donna ma insomma dai giovane no giovane è diciamo che nel futuro così è già abbastanza compromesso però lei concretamente è un manager di un distretto sì diciamo che ho terminato un percorso adesso speriamo di iniziarne un altro con la nuova diciamo progettualità che c'è stata insomma e quindi nuovi progetti approvati dalla regione Veneto tanto Mirano è provincia di Venezia sì Mirano è stato tante volte il centro dell'attenzione sì diciamo Mirano è una piazza interessante anche perché ha una sua struttura quindi è abbastanza definita e si riesce anche a valorizzare nella sua dimensione proprio di piazza se vogliamo io posso dire di aver avuto la fortuna comunque di avere degli interlocutori che mi hanno consentito di fare spero un discreto lavoro quantomeno perché poi aspetta sempre agli altri la valutazione però ecco da un lato i funzionari del comune la sindaca che rappresenta il supporto poi di commercio sia a livello mandamentale che provinciale di sicuro aiutano ed è questo secondo me uno dei punti di forza perché mettere assieme interessi diversi perché sono tanti gli interessi all'interno della piazza io dico così un po' per provocare bisogna tornare ad una piazza in cui si fanno affari e tutti fanno affari a partire dai clienti consumatori come dire ogni soggetto deve avere la possibilità di vincere qualche cosa perché altrimenti se c'è qualcuno che perde allora non funziona più se tutti riusciamo invece ad avere un nostro elemento di valore probabilmente questo spinge tutti perché comunque sia una piazza che funziona dico una piazza che chiamiamo piazza perché secondo me a me piace di più questa dimensione di scambio ma a parte questo fa bene a tutti fa bene a tutti perché voglio dire fa bene ai proprietari degli immobili fa bene agli operatori ma fa bene anche ai stessi cittadini che sono poi orgogliosi di vivere su una piazza che funziona che attrae e che comunque coinvolge i stessi cittadini per me è stata un'esperienza diciamo complicata allora sai che cosa se lo interrompo un attimo se è complicata non la deve raccontare bene eh no allora mi occorre il tempo andiamo in pubblicità qualche secondo poi ritorniamo insieme e riprendiamo un po' il filo del discorso tra poco grazie a tutti